Non dar retta ai tuoi occhi, non credere solo a quello che vedi, perché siamo circondati dallo straordinario. Ecco il tuo Claudio. I miracoli avvengono intorno a noi ogni volta che nel buio appaiono quelle persone che danno luce alla nostra vita. Per il ciclo romantico italiano. Stai diventando un angelo. Angeli, una storia d'amore. Lunedì in prima serata, sulla 5.